Una condanna a tre anni, corrito abbreviato. A dieci mesi di distanza dal drammatico incidente stradale in cui persero la vita marito e moglie, Francesco Diana e Giovanna Mori è arrivata la sentenza per il 44enne che si trovava alla guida della Porsche Carrera che, invadendo la carreggiata opposta, si schiantò contro la Skoda Fabia lungo la provinciale 21 ad indicatore. Il PM aveva chiesto una condanna a quattro anni. Con la riforma cartabia adesso, se il titolare del distributore non presenterà appello, la condanna si ridurrà automaticamente a due anni e sei mesi. Era il maggio 2023, la Porsche non era di proprietà dell'imputato, accusato di duplice omicidio stradale, ma di un cliente che gliel'aveva affidata per lavarla. Il benzinaio l'aveva presa per un giro. Durante il breve tragitto, lo schiantò fatale. In direzione Arezzo, la perdita di adderenza sulla strada, quindi l'invasione della corsia opposta. Francesco Diana morì sul posto a seguito del violento impatto, la moglie a distanza di poche ore, dopo un disperato volo verso l'ospedale fiorentino di Careggi. Unico sopravvissuto è il figlio, un 26enne. La famiglia stava tornando a casa alle ville di Terra Nuova a Bracciolini. Dopo lo schianto, la Porsche proseguì la propria marcia per 200 metri, pur avendo perso una ruota. Sotto accusa nel corso delle indagini finì così la velocità del mezzo. La difesa, in aula invece, ha sostenuto che l'invasione di corsia fosse dettata da una fatale distrazione.